Ben trovati dal TG della mobilità, cantieri e maltempo, stanotte sono sospesi i lavori in piazzale Flaminio, Viale Giorgio Washington e Viale San Paolo del Brasile, traffico regolare. Inoltre, per motivi di sicurezza, la protezione civile di Roma Capitale ha disposto la chiusura degli accessi alle banchine nel tratto urbano del Tevere. Trasporto pubblico nel quartiere Laurentino dal lunedì scorso è in strada, la nuova linea 724 consente ai quartieri di Fonte Ossienze e Ferratella, un collegamento diretto con la metro B, l'ospedale Sant'Eugenio. Il capolineo della 724 è a Via Gadda e a Piazza dell'Agricoltura, la linea attiva dal lunedì al sabato dalle 6.30 alle 21.30. I dettagli sulle modifiche della rete dei bus del quartiere è sul sito romamobilità.it